l'assunto come Smallville, come ho detto nel Resident Evil Revelations 1 infatti Resident Evil Revelations 2 infatti episodio 4 la metamorfosi l'ultimo episodio questo poi ho finito questo gioco l'ultima parte di O cosa farò dopo Resident Evil Revelations 2 ecco la Wesker prima di trasformarsi guardano tu sei perfetta Natalia guarda là oh tossisce perché? tra sei mesi ti risveglierai e ti verrà in me cosa? cazzo dice? e il mondo proverà la creazione di paura allora buonanotte mia cara dormi bene che ascensore guarda roba pazzesca questo tempo perso la mia vita è stata un preludio a questo la mia vera nascita guarda guarda che intreccio di ascensori è ora di incontrare la causa di tutto cioè Natalia scende e creere e muore e salgono incredibile cos'è questo posto? non lo so non importa troviamo la guardiana allora questo è l'episodio 4 sarebbe l'ultimo quindi allora niente allora come ho visto c'è io ho scelto il finale buono la parte precedente vediamo cosa esce per me allora questo è l'episodio l'ultimo episodio di Claire e Moira qua poi la parte dopo farò belle Natale bisogna capire quanto dura non so se è una parte o due non lo so questa mi è durata una una parte e mi fai la parte mi è pensato più di una perché ho fatto la miniera che è stata lunga niente la parte finisce qua la prossima parte faremo l'episodio 4 di Claire e Moira poi dopo dipende a quanto dura farò con Iberia e Natalia definitivamente così uscire di finale buono non so cosa sia ma lo scopriremo più avanti niente la parte finisce qua niente forse la parte ferma questo dai ci trova la guardia quindi vediamo che succede ok quindi niente allora quindi vi dico che finisce qui il gameplay di Resident Evil Revelations 2 quindi un ciao da Alessio 19 870 al prossimo gameplay